Il Movimento 5 Stelle sta facendo un lungo lavoro, anche faticoso, dobbiamo dirlo perché non è un lavoro breve che si esaurisce in poco tempo, di ricostruzione e radicamento sui territori. Ci sono tanti nuovi ingressi anche, persone che vogliono interpretare quella che è la buona politica, che nasce dai territori, nasce dal contatto con le persone, con i cittadini per cercare di risolvere piccoli problemi che poi diventano sempre più grandi. Ecco, questo mi fa piacere, mi fa ben sperare che il Movimento 5 Stelle possa rafforzarci sempre di più per testimoniare una sua politica, la buona politica anche a livello territoriale. Noi siamo in politica non per la velletà di assumere posti di comando, per cambiare il Paese, la società e per cambiarlo ovviamente siamo sempre concentrati sull'obiettivo e nessuno ci potrà togliere questa vocazione che è naturale.